buongiorno buongiorno a tutti bentrovati nel canale e benvenuti al sorteggio della settimana numero 22 del fantatennis siamo arrivati alle olimpiadi torneo olimpico che è considerato per il gioco un combine mille quindi si può usare il mille d'oro anche se non rientrerà nelle classifiche speciali dicevo olimpiadi che sono un mille sono un mille a 64 giocatori senza e 64 giocatrici ovviamente senza by al primo turno quindi tutti e 64 sono impegnati nel nel primo turno adesso estrarremo il tabellone numero 1 il tabellone maschile numero 2 il tabellone femminile vediamo cosa decide la sorte quindi la la giocatrice jolly delle olimpiadi verrà dal tabellone femminile il tempo di aprire il tabellone femminile di impostare la riga da 1 a 64 per scegliere il numero della giocatrice che sarà la giocatrice jolly delle olimpiadi quindi sarà la cristian la giocatrice jolly per quanto riguarda le olimpiadi e adesso facciamo il sorteggio per il giocatore taglia sempre numero 1 maschile numero 2 femminile vediamo quale sarà il torneo che avrà il giocatore taglia ancora il femminile ancora il femminile quindi la taglia sarà una tra siontec ribachina nell'ordine scusate siontec goff ribachina e paolini vediamo quale sarà la taglia delle olimpiadi sarà la iga smiontec la taglia del torneo olimpico detto questo detto tutto la scadenza dei pronostici è per sabato sabato prossimo quindi sabato oggi è il 25 sabato 27 alle ore 9 il pronostici saranno pubblicati con la fine del torneo d'atlanta quindi intorno alla domenica nella tarda domenica di nella tarda serata di domenica perché prima bisogna finire una settimana e poi pubblicare i pronostici dell'altra però tutti i pronostici vanno dati entro sabato 27 alle ore 9 grazie a tutti e alla prossima